Conai partecipa alla sesta edizione presente fin dalla prima edizione. Siamo arrivati al sesto anno delle giornate di Trevi perché l'economia circolare dal nostro punto di vista è al centro anche della transizione energetica oltre che della transizione ecologica. Conai è un consorzio privato senza fine di lucro che gestisce un pezzetto di interesse pubblico. Raggiungiamo gli obiettivi di circolarità e di riciclo degli imballaggi per il sistema Italia. Quest'anno Conai compie 25 anni di età abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti. Adesso stiamo lavorando per sviluppare i prossimi 25 anni.